Archiviata la sconfitta di Cuneo e superata la sosta, il proprio turno di riposo, il volle Soverato prepara la partita interna di domenica prossima, ospiterà Montecchio, una matricola di questo campionato, 8 punti in classifica, 5 meno del Soverato e reduce da una vittoria 3-0 con Caserta in casa, Coach Barbieri. Una squadra nuova di questo campionato ma già le prime giornate ci hanno insegnato che in questo campionato anche le squadre cosiddette matricole sono da affrontare col massimo della concentrazione. Certamente la classifica parla chiaro, hanno 8 punti e hanno già riposato, non sono certo pochi, abbiamo visto la loro partita di domenica, un 3-0 fatto con grande autorità, perciò è una squadra sicuramente non facile da affrontare, abbiamo visto che soprattutto in seconda linea sono veramente forti. Un Soverato che è reduce dalla sconfitta di Cuneo e non è lo scontro diretto, sappiamo che comunque la trasferta di Cuneo è una trasferta ostica un po' per tutti, quale indicazioni ha tratto da questa partita Coach Barbieri perché Cuneo è considerata insieme al Soverato e ad alcune altre squadre una di quelle squadre che possono ambire al salto di categoria? A mio avviso è la squadra che ha investito di più, la squadra che ha già creato un'organizzazione di gioco importante e si è visto, sicuramente noi per arrivare lì abbiamo ancora da sistemare alcune cose però si è visto durante il match, si è perso ma 3-1 e il quarto set comunque siamo stati avanti. Perciò l'abbiamo giocata, qualcosa abbiamo da sistemare, da mettere a posto però sono convinto che questa squadra ha ancora grandi margini di crescita e lo stiamo vedendo di settimana in settimana perciò su quello siamo contenti, la classifica ci sta premiando perciò bene avanti così. Infine presentiamo questo Montecchio, avversario di domenica prossima, una squadra che vanta nel suo roster anche diversi elementi giovani che magari si affacciano anche per la prima volta a questa A2 però una squadra che proprio per questo può nascondere ulteriori insidie. Loro hanno ottenuto l'ossatura della B1 e questo può essere un vantaggio perché comunque si vede che giocano assieme da tempo ed è una squadra molto molto rodata e su tutti i meccanismi come abbiamo detto prima soprattutto sono aggiunto Gomiero, Pami, giocatori che comunque hanno una già esperienza internazionale, l'altra l'anno scorso ha fatto la A2. Perciò è una squadra secondo me di tutto rispetto e poi in panchina hanno due giovani a mio avviso veramente veramente forti che in futuro sicuramente ne sentiremo parlare.